E' come tu, la maletima caponda, sti femmini migranti in capolonna, tornano a via di rimascoli invasori, e a via Zeus, a chi i genitori, ascomandano conforto e protezioni. E' come tu, la maletima caponda, sti femmini migranti in capolonna, scattolo di romascoli invasori, e a chi i genitori, ascomandano conforto e protezioni. In cui dire, ma cosa avete fatto? Abbiamo fatto un azzardo, abbiamo fatto un'operazione nuova. Devo dire che dagli applausi del pubblico, devo dire che l'emozione nostra è passata. Non so se quello che succederà domani, ma in questo momento, a un minuto dalla fine dello spettacolo, ci fa vibrare ancora di emozione. Il fatto di avere cantato, parlato la nostra lingua siciliana, che per una volta è diventata la lingua nazionale. Il nostro dialetto è diventato una lingua importante, poetica e forte, per poter dire certe cose. Questa è la cosa più bella. Credo che questa sia l'operazione più vincente. Parlare la nostra lingua è per parlare di temi importanti, come la libertà, l'accoglienza, in una terra che poche volte accoglie, ospita tante volte, ma poche volte accoglie veramente. E per cui siamo ancora presi di adrenalina, quindi dobbiamo un attimo decantare, ma credo che è stata una grande serata. Non ho capito se sei stancato di più con gli abbracci e complimenti alla fine che in oscena. Non lo so, anche quello devo metabolizzare. Abbiamo fatto parlare a Eschilo in siciliano, abbiamo usato il greco moderno come atto politico per la Grecia di oggi. Devo dire che la bellezza di questo spettacolo sta in una compagnia meravigliosa. Musicisti, danzatori, attori, coreografo, costumista, tutta una grande compagnia che con grande sacrificio ha portato a casa veramente un bel risultato. Poi il pubblico giudicherà. Di Eschilo non abbiamo perso neanche una parola, non abbiamo tradito niente. Abbiamo soltanto preso le parole in greco e poi in italiano della traduzione di Guido Paduano e le abbiamo tradotte in siciliano. Quindi diciamo che il plot è uguale, i versi sono uguali, le parole sono uguali, soltanto che sono trasposte in siciliano. Quindi è trasposte da uno stile prosodico a uno stile poetico. Solo quello. Poi è un'opera totalmente di Eschilo che noi abbiamo adattato in siciliano e in greco moderno.